Ben ritrovati qui su Le Fonti TV, un saluto a tutti i telespettatori della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV che ringrazio in quanto siete sempre più numerosi a seguire con costanza e consuetudine ormai questo appuntamento periodico riservato alla rassegna stampa della rivista Legal, una rivista dedicata al mercato legale che come già saprete potete trovare sia nel tradizionale formato cartaceo in tutte le edicole ogni mese oppure nel formato digitale online. Ovviamente come di consueto passiamo così a dare uno sguardo a quella che è la rivista Legal del mese di settembre che potete trovare ancora in edicola, andiamo a vedere quali sono i principali articoli contenuti nel mensile di settembre per poi approfondire i contenuti più salienti della stessa rivista. Iniziamo con uno sguardo sulla copertina, una copertina del mese di settembre dedicata a Giuseppe Pirola il quale parla del passaggio generazionale che vede coinvolto direttamente il suo studio. Andiamo a leggere insieme il titolo Gioco di squadra per il passaggio generazionale Giuseppe Pirola annuncia alle fonti Legal i prossimi progetti che vedono i soci fondatori senza ruoli esecutivi per fare spazio ai giovani e preparare lo studio tradizionale ad affrontare le prossime sfide. Sempre naturalmente proseguendo, come potete vedere in basso, provo a ritornare indietro, come potete vedere in copertina abbiamo davanti a noi, nella copertina, due articoli molto interessanti relativi al CEO Summit che hanno aperto le due cerimonie delle fonti Awards che si sono tenute il 25 maggio dedicata ai penalisti e il 31 maggio invece cerimonia delle fonti Awards dedicata ai giusolavoristi. In entrambe le cerimonie si sono aperte con un importante CEO Summit i cui temi rispettivamente sono stati il ruolo del penalista da Tangentopoli ad oggi quindi come si è evoluta la figura del penalista nel corso del tempo questo è il tema che è stato trattato il 25 maggio, la cerimonia appunto come già detto dedicata ai penalisti mentre nel 31 di maggio durante la cerimonia delle fonti Awards dedicata ai giusolavoristi invece il tema del CEO Summit è stato quello dedicato alla tecnologia e come la tecnologia influisce sia sui rapporti personali che professionali e come ovviamente sono cambiate e mutate anche le organizzazioni industriali. Proseguiamo ovviamente con la lettura della rivista andiamo al sommario come di consueto il sommario racchiude quelle che sono le principali sezioni della rivista Legal del numero di settembre la rivista si apre con la sezione Scenari per poi proseguire con protagonisti, mercati e business, penale e fisco, banking e finance e imprese e lavore per concludere anche professione avvocato. Proseguiamo oltre insieme andiamo a vedere l'articolo di apertura della sezione Scenari leggiamo insieme il titolo parla ovviamente della riforma e delle riforme che sono state di recente bloccate riforme bloccate e alta tensione tra le istituzioni lo scontro tra le procure e il vicepremier Matteo Salvini per le inchieste sul finanziamento pubblico alla Lega e sul caso della nave Diciotti apre l'ennesima frattura istituzionale tra giustizia e politica che fra emergere anche le spaccature dentro la maggioranza Bonafede rinvia le modifiche alla prescrizione ma va avanti sulla legge anticorruzione che prevede l'interdizione passiamo oltre abbiamo nella sezione protagonisti vi è l'articolo di richiamo della copertina l'intervista che è stata rilasciata alla redazione di Le Fonti Legal da parte di Giuseppe Pirola il quale come già annunciato in apertura ci parla del passaggio generazionale del suo studio di cui lui è fondatore ovvero lo studio Pirola Pennuto Zei andiamo a leggere ancora una volta il titolo di questa importante intervista a cui è stata dedicata proprio la copertina vi leggo insieme il titolo studio Pirola Pennuto Zei gioco di squadra per il passaggio generazionale Giuseppe Pirola annuncia a Le Fonti Legal i prossimi progetti che vedono i soci fondatori senza ruoli esecutivi per fare spazio ai giovani e preparare lo studio ad affrontare le prossime sfide proseguiamo ovviamente poi l'approfondimento dell'intervista la troverete sul mensile legal di settembre come già annunciato in partenza andiamo invece ad la sezione mercati e business questa sezione nella sezione mercati e business andiamo a leggere il titolo e soffermiamoci soprattutto sul contenuto di questa sezione in quanto proprio in questa sezione è presente un articolo importante un dossier di approfondimento legato alla classifica degli studi legali che è più attivi nell'ambito del mercato del restructuring andiamo a leggere insieme il titolo classifica gli studi al top nel restructuring gli studi al top nel restructuring il settore delle ristrutturazioni sta attraversando un periodo di trasformazione diminuiscono le soluzioni diminuiscono le soluzioni consensuali alla crisi e aumentano gli investitori finanziari che acquistano i crediti prima di procedere oltre quindi di andare a vedere come di consueto quali sono gli studi legali più attivi nell'ambito del mercato delle ristrutturazioni quelli quindi che hanno guadagnato maggior terreno nei primi sei otto mesi del 2018 e quelli che invece hanno perso terreno proprio in questo mercato è necessario fare una premessa come di consueto io ovviamente vi annuncio quelli che sono i criteri che portano così ad elaborare questa importante classifica mensile da parte della nostra rivista infatti la classifica sono della rivista legal sono una rielaborazione del centro studi di le fonti effettuato sulla base delle operazioni in questo caso nel mercato del restructuring che vengono comunicate da parte dei principali studi legali e che vengono resi nodi nel periodo di ovviamente operazioni che sono concluse nel periodo di riferimento dell'indagine in questo caso nei primi sei otto mesi del 2018 le operazioni ovviamente ogni singola operazione poi viene ponderato sulla base di una serie di criteri i criteri che sono scelti li ripetiamo sono il numero delle operazioni chiuse da parte dello studio legale il controvalore di ogni singola operazione la tipologia il cliente i team coinvolti e ovviamente anche le tecniche legali utilizzate sulla base naturalmente di tutti questi criteri poi viene elaborata la nostra classifica e dunque andiamo a vedere in questo numero quali sono gli studi legali che effettivamente hanno guadagnato maggior terreno nell'ambito delle ristrutturazioni come potete vedere dal grafico che qui in sovraimpressione in prima posizione troviamo chi aumenti chi aumenti che chiude con 14 per cento del valore complessivo di mercato quindi un ottimo in prima posizione a seguire invece lo studio lombardi segni che chiude con un 11 per cento quindi il valore complessivo delle operazioni eseguite sulla base dei criteri che ho appena citato sono state valutate e il relativo valore che ne consegue pari all'11 per cento rispetto al valore complessivo di mercato a seguire abbiamo in terza posizione invece lo studio molinari lo studio molinari con noi che chiude con un 7,2 per cento ebbene in questo caso anche sottolineare che lo studio molinari ha chiuso ha seguito in questo primo semestre due delle tre operazioni più rilevanti proprio di questo in questo periodo e infine CMS il quale chiude con un 6,4 per cento quindi anche CMS è riuscito a guadagnare terreno e quindi occupare un'ottima posizione andiamo invece a vedere quali sono gli studi legali che in questo periodo hanno perso terreno proprio nell'ambito del restructuring in prima posizione abbiamo un importante studio legale Link Letters il quale non ha comunicato grandi operazioni nell'ambito di nel mercato di ristrutturazione proprio in questa prima parte dell'anno a seguire invece abbiamo Pedersol il quale chiude con un 3,8 per cento quindi una percentuale più stessa insolita per questo studio che notoriamente abbastanza attivo proprio in questo mercato a seguire poi abbiamo anche DLA Piper e Legans i quali entrambi per la stessa ragione un po' anche di Link Letters non hanno comunicato delle operazioni il cui valore ha permesso a questi due importanti studi di essere menzionati in questa classifica io ovviamente andiamo a ricapitolare con il grafico quelli che sono gli studi legali che hanno acquistato terreno invece quelli che hanno perso terreno quindi come potete vedere abbiamo quindi entrambi abbiamo chiomenti lombardi segni molinari e CMS mentre dall'altra parte abbiamo Link Letters Pedersoli DLA Piper e Legans questi sono gli studi che abbiamo voluto menzionare in quanto sono i più significativi in relazione al movimento che c'è stato nel mercato delle delle ristrutturazioni nei primi sei otto mesi scusate del 2018 passiamo avanti con la lettura della della rivista andiamo a sfogliare insieme ancora una volta la rivista passiamo ad la sezione successiva quella penale e fisco come potete vedere c'è un articolo andiamo a leggere insieme l'articolo di apertura della sezione penale fisco così l'Italia si adegua all'Unione Europea estensione dell'ambito di applicazione sanzioni più elevate e maggiori poteri alla Consob queste le principali novità della bozza di decreto che ha l'obiettivo di razionalizzare il sistema dei reati finanziari e garantire trasparenza nelle negoziazioni passiamo oltre abbiamo la sezione invece imprese e lavoro nella sezione imprese lavoro abbiamo come già anticipato in apertura un importante articolo dedicato al CEO Summit che ha aperto la cerimonia delle fonti awards del 31 maggio del scorso a quale si è parlato della tecnologia e di come questa ha influito e influisce sul mondo del lavoro come è cambiato quindi il mondo del lavoro a seguito di tutte le novità tecnologiche che sono subentrate negli ultimi negli ultimi anni andiamo a leggere insieme il titolo così la tecnologia cambia il mondo del lavoro nuove professionalità competenze formazione continua flessibilità e merito ecco come l'innovazione ha modificato i modelli organizzativi e l'attività di recruiting da parte delle imprese ecco qui come potete vedere quindi poi seguendo invece in professione alla sezione professione avvocato abbiamo invece un altro articolo dedicato ad un altro CEO Summit quello che è aperto la cerimonia delle fonti awards del 25 di maggio dedicato appunto una cerimonia dedicata ai penalisti il cui tema stesso del CEO Summit non poteva che essere ovviamente l'evoluzione della figura del penalista nel corso degli anni da tangentopoli ad oggi andiamo a leggere insieme il titolo da tangentopoli ad oggi il nuovo ruolo del del penalista dagli anni dagli anni di mani pulite al diritto penale e le relative prassi operative hanno subito una profonda trasformazione come ne hanno parlato Nero Diodà Dario Bolognesi Chiara Padovani Alessandro Parrotta nel corso del suo summit organizzato dalle fonti a palazzo mezzanotte bene io ovviamente concludo salutandovi e ringraziandovi ovviamente per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento sulle fonti tv restate qui con noi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti